buongiorno qui sotto abbondığı questo nuovo video insieme a blu fire 8 8 buongiorno buongiorno Bedwars, il problema più grande adesso è come arriviamo lì senza prendere la lava E' impossibile. Dobbiamo fare il parkour secondo me Si ma effetti quella è lava Aspetta però se arriviamo la riusciamo a cliccare le 4 v4 Si Vieni, vieni. Oh io seguo lui No ho mentito è impossibile. No è impossibile. Puoi attivare le Queste Utile aspetta un'idea guarda adesso farò una magia Oh, eh sì Mi sa che edeflorislava non può iniziare no Va bene, va bene Alla ci sta ancora provando io Eh certo sono tryhard Questo qui non c'è l'altro Ho messo un'idea, ho messo un'idea, ho messo un'idea, ho messo un'idea Complimenti, ottima scelta Mi piace questa mappa, hai scelto molto bene Mh Molto facile Ok, oh questa è complicata Qui è tutta lava E qui diventa un po challenge, si Ed è anche notte Vabbè, diciamo che è abbonato l'inizio Perché è impossibile Sì, dobbiamo schippare l'inizio Vabbè, se uno copre tutto è salvo Mi immagino le persone che ci vanno Perché questi stanno mettendo i blocchi sugli altri blocchi? Vabbè, chi è che ha già perso il letto? Il rosso? Come hanno fatto? È la lava Cioè, è rosso Non so non farmi li prendi Ecco Io ti seguo E figgi di te Ok Oh, stanno arrivando gli spalti Ci siamo Siamo troppi blocchi Avremo di inventare avvino di blocchi Perderemo la spada e perderemo Oddio Siete troppo veloci Smettetela di sentire No Come? Quando? No, questo tizio No, non va bene Cioè Non ci credo Vergognati No No Sei anche morto Non puoi morire Ci credi che sono morto e infuocato No No perché? C'erano i fuochi in mezzo della mappa e sono morto e infuocato Tu hai venito male Ok Ok Torni qui Tutta la lava per terra Allora Io riuscirò a che deve andare Ok Ah ma così posso farlo È epico No Comunque non posso farlo Mi arrendo Ma ci sono sicuri che non c'è un flyhacker qua Ma ci stanno morendo tantissimi Non lo so Non hai uno dietro Non hai uno dietro Come abbiamo uno dietro Oh È proprio dietrissimo Guarda Era un po' troppo dietro Forse sta mappa è un po' troppo Ok Vediamo 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 Ci serve tipo una via di mezzo Perché? Perché? Perché questa mappa è un po' troppo poco Questo effetto Questa è leggermente meglio della prima che ho trovato Oh Tutte le mappe senza i blocchi che ho cambiato Ci sono Le stiamo beccando tutte Se mi fai uscire dalla lope Se continua così andiamo manualmente Cambiamo ancora più blocchi nella texture Ecco Mettiamo tutto là Ok No 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 ma perché? Perché? Chi ha fatto questa texture? Ah l'ho fatta io in realtà Però questa Questa mi piace Questo mi piace Perfetto Se l'ho fatta Guarda i letti Mio dio Guarda questa Che bella Benissimo Qua è veramente tutto la poso Oh guarda qui Però non c'è la lava Che siamo noi Faccio la bar natura in legno Cosa faccio? Eh sì Conviene guardare meglio A questo punto Sul letto si può stare Non è caldo Allora No Oh Cosa stai? Ok Eh il generatore di diamanti È un po' un problema Ah ecco A poi dove non puoi mettere blocchi Non ci possiamo fare niente Eh sì Urliamo contro i pixel Che non ci fa fare decentemente Questa cosa Vergogna Protestiamo Oh no Oh no Oh no Cosa no? Meglio perché Sì Sta piazzando blocchi anche lui Anche lui sta facendo Oh brucia Ok I green sono morti da soli Inspiegabilmente Qua c'è il quarto diamante Quindi con questo possiamo potenziare le spalle Non lo fai Eh 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 Bisogna essere in blu Così evitiamo di fare Fra intendimenti Ah ho fatto fuori Bene Allora prendiamo Un po' di blocchi E alla riscossa Adesso potenzio le armor Ok Io sono armatura Ok Armaturizzato Il blu hanno soltanto la lana A più a vista Sembrerebbe che ci sia soltanto la lana Ok Quindi una marea di blocchi di nuovo Ok No Perché si apre questa coppa Anche i rossi Sono poco Quindi andiamo indietro O passiamo dal mezzo Non ho idea Dovremmo anche Studiarci un piano Tipo per andare nel mezzo Eh sì Che è leggermente lavico Mi dicono Questo un po' Guarda c'è una scala Che non è male Come una cosa Ah e fa E facciano delle scale Benissimo Abbiamo anche dei blocchi Già piazzati Ecco però qui Mi sono bloccato Dove sta andando Eh non so Da dove sono passato Ok Ok Sto arrivando Ti sto seguendo Blocchi di vetro Però non hanno fatto niente Un po' più inutili questi bianchi Oddio I red muoiono Qua c'è le ombre qua sopra di lava Ombre di lava Non capisco se sono nella lava Ok Sono morti Li hanno vissuti i bianchi Ho visto la scena in diretta Ok Ok Io ti ho perso per sempre Noi siamo i gialli Sì noi siamo i gialli Ok ti ho visto Quindi loro sono eliminati gli azzurri Sì gli azzurri li hanno eliminati i bianchi Oh i rossi eliminati Chi manca Ah mancano i gialli I bianchi Noi siamo i gialli In realtà quindi mancano i I bianchi e i rossi I bianchi No i bianchi e i rosa manca E i rossi Deve nemmeno ucciderli Sì Sono Sopra i bianchi in poche parole Mi spareranno le fireball Lo so già Perderò di nuovo Sono ritardo Dove è? Ah no i bianchi sono più avanti Ok vedo la tua scena Ti blocchi Cos'è? Oh Oh c'è un silverfish C'è un silverfish Un silverfish Ok Hanno l'ossidiana Hanno l'ossidiana Hanno l'ossidiana Ok l'ossido Ok perfetto No è caduto nel coso di sotto Non ci credo È vivo No 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 va bene Va bene Va bene Lo seguo Lo seguo Eccola All'avventura Sta scappando Non ci credo Dov'è l'altro intanto Che è così Meno male che sta scappando Dove ci sono i blocchi Se no non potevo seguirlo Eh Sì Infatti Ecco Devo perdere qualche blocco Perché Oh mio dio Lo posso spostarmi Ok Ok uno stack di blocchi Basterà Eh beh scherzo Ok Sono incastrato Mi sono discastrato Allora Madonna Guarda quanto hanno guardato Questi No Sono pazzi Sono dei pazzi Io spengo Spengo un po' di lava Abbiamo 26 Ti dà un senso Come faccio Un senso Un senso Di sollievo Allora C'è uno sberaldo No Ok Ora alza Particolare Ancora più particolare Anche condita Con un po' di crema Sembra che stiamo Seminando un campo Ecco su questo giallo Però vabbè Io sono curioso Quando finiamo Tipo che vinciamo Perdiamo Togliamo una texture No Si sono comprati l'arco Ma no Non potete essere così amanti Di tecnologia Soprattutto perché sto morendo Ecco Come ci è arrivato Brutto errore Scendi scendi Lo uccidiamo Buttalo giù Buttalo giù No Ok Ok Però peccato che era l'altro E non era l'arcere L'arco Perché se no Questi ci Ci buttano All'istante C'è un viola Brocia C'è una spada in diamante Diamante Provando a team mare Mi spiace No Non c'è riuscita Allora Sto arrivando Eccolo Muori Ok Aveva diamanti Aveva otto diamanti Si Oh potenzia la forza Gappola Ci sono La mela No no Non tornare Vabbè Usiamo una sola Ok Perché aiuto Aiuto Mi stava frecciando Sto arrivando Sarà meglio che tu vieni veloce Perché se no 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 perché Ti sta stacando Cosa stai combinando Mi ha buttato via con l'arco Ma cosa Ma no Mi ha buttato via con l'arco C'è la bad destruction in 10 secondi Non ci credo Ok Ce la stiamo vivendo per miracolo Ci siamo arrivati alla bad destruction Alla fine Ok tieni Chris Perfetto Ora Si fatti cattiveri Ora Prendita la lamela d'oro Comunque Sono stupende Queste cascate di lava Qua in mezzo Ah si Sembrano vere Nel senso Sembra veramente Una cascata di lava Davvero figlio Allora Ma lì Ma qualcosa sembra una pecora Però non è in commento Si è una pecora Sto registrando Ma è una pecora Non è mica nulla di Non family friendly Dov'è? Dov'è? Vieni qui No Non possiamo seguirlo No No Era il nostro momento Mi hanno visto? No Sono troppo Conciutati Queste passi Base Sono coloranti in basso Quindi Ho fatto la fonte D'acqua infinita Arrivo 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 Sostegno 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 Ho troppato la spada Ho troppato la spada Non ci chiedo Cosa Cosa convini Vieni 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 Veloce Ci sono 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 Ok Uno è morto È rimasto l'altro Cioè No È nell'acqua Probabilmente Eccolo 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 No No C'ha Oh Stavo cadendo Stavo cadendo No 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 Vabbè Ma con quest'arco Come faccio L'acqua L'arco No Prendi l'acqua Prendi l'acqua No Gigi È stata epica Ce l'avevamo Quasi fatta Madò Per un bianco Un bianco Io direi Che la chiudiamo qua Ci sto Con 47 minuti Di registrazione È andata piuttosto bene La parte finale A parte il fatto Che per un bianco Abbiamo Abbiamo fallito La Deflori Slava Challenge Sì A un certo punto Abbiamo Siamo un attimo Pazziti Ma La Bed Wars Avrà stato La Challenge Che dici Rilasciamo La Testure Pack Con Tot Likes Quanti like fai tu Non ho capito niente Stai laggando Ok 20 like Dai va bene 20 ci arriva La rilascia Chris Sì Ciao